Buongiorno a tutti cari ascoltatori, vi dico un altro motivo per il quale siete fortunati perché non abitate a Firenze, è un'inchiesta che è uscita quest'oggi sul Corriere Fiorentino che è l'edizione fiorentina del Corriere della Sera, camminare in città a piedi è pericoloso. Il risultato è di un'indagine realizzata a livello nazionale dall'Istituto di Ricerca Nextplora, resi noti dal Centro Studi e Documentazioni Direct Line. Il 56% degli intervistati dichiara di camminare a piedi dai 15 ai 45 minuti al giorno e il 74% però ammette di essere poco tollerante nei confronti di automobilisti che parcheggiano sui marciapiedi in doppia o anche in tripla fila. Il 56% è infastiliso dagli automobilisti che passano in velocità nelle pozzanghere non curanti dei pedoni. La paura più grossa è la velocità, dice ancora l'inchiesta sulla vita dei pedoni a Firenze. Le preoccupazioni di ogni giorno vedono in testa i pedoni fiorentini i quali al 76% indicano l'elevata velocità di guida e al 68% dei automobilisti che passano con il rosso al 57% una guida distratta come massimo pericolo, come massima paura. Per fortuna voi non abitate a Firenze e non potete conoscere questo terrore. Nel frattempo il segretario del Partito Democratico, Veltroni, si è dimesso, pertanto ormai è ex segretario e si è dimesso immediatamente e ha anche riportato la macchina del partito nel garage del partito, come si fa quando ci si dimette, fatto che in Italia accade molto raramente. Peccato che a dimettersi sia stata la persona sbagliata e infatti si legge per esempio nell'articolo di Curzio Maltese su Repubblica di oggi l'ira dei militanti, andatevene tutti, tutto un vertice e finisce sotto processo. Devo dire che io stento a vedere la faccia di D'Alema preoccupato e stento a credere che D'Alema si possa sentire sotto processo. Un personaggio come lui non è possibile processarlo e rientra nella tradizione di Vladivostok, della tradizione sovietica per quanto la nomenclatura non si può processare mai. E poi D'Alema alle ultime elezioni a cui fu possibile dare delle preferenze tirò fuori 900.000 preferenze o qualcosa del genere, una cifra esagerata di preferenze per cui D'Alema è un po' un dittatore mancato italiano, una specie di Berlusconi di sinistra che poteva avere, se le cose fossero andate diversamente, un consenso incredibile come lo sta avendo Berlusconi. Per l'appunto le cose gli sono andate peggio, sarebbe l'ora che se ne andasse a casa anche lui. In realtà poi l'elettorato può anche arrabbiarsi ma il problema dell'elettorato italiano è che quando va a votare vota per i sogni, non vota per le cose realizzabili. E infatti assisteremo ora, particolarmente a Firenze, a rischio che per il candidato emerso dalle primarie in modo clamoroso Matteo Renzi alla prossima carica di sindaco per la città di Firenze si arrivi ad una astensione da parte degli elettori del centrosinistra, del PD e del centrosinistra che nelle primarie di coalizione hanno votato per altri candidati poi sconfitti e che non vogliono votare Matteo Renzi alla carica di sindaco di Firenze. Per cui dopo la scomparsa della sinistra comunista dal Parlamento perché non potendo avere il comunismo i propri elettori non sono andati a votare, hanno mandato tutti a casa, infatti non vediamo più di liberto in televisione tutti i giorni come capitava quando c'era il governo Prodi. Ora c'è anche il rischio che a Firenze succeda che vince magari un candidato del centrodestra che potrebbe persino essere Giovanni Galli, ex portiere del Milan e della Fiorentina, anziché il candidato del centrosinistra perché siccome gli elettori del centrosinistra non vogliono Matteo Renzi preferiscono il far vincere o rischiare di far vincere il candidato del centrodestra. D'altronde questa è l'Italia, al peggio non c'è mai fine, siamo in mezzo ad un guado e il lavaggio, il lavacro deve essere ancora lungo probabilmente, anche perché non mi risulta né che D'Alema né le altre oligarchie che gestiscono la politica italiana siano in fase di dismissione, tutt'altro, stanno lavorando assiduamente e stanno appunto togliendo di tonno persone come Veltroni che con tutti i difetti, il passato, gli errori eccetera, almeno dava l'impressione di avercela messa tutta in modo abbastanza sincero. Con questo io vi saluto, abbiamo concluso i nostri 5 minuti di questa mattina e ci risentiamo presto da Claudio Gherardini per Radio Wave International, l'idea allo studio.